Parma e Napoli aprono la prima domenica della nuova Serie A Team Liverani per il suo esordio sceglie il tandem inglese Cornelius Gattuso punta sulle certezze consolidate Mertens dall'inizio, Ozyman parte fuori Al Tardini ci sono anche mille tifosi che tornano a godere dal vivo delle emozioni, dello spettacolo della Serie A Team Per Mertens, fortunato e bravo il Napoli per l'1-0 con il gol di Dries Mertens Di Lorenzo Col tacco Mertens, Ozyman ad un... Fabian Ruiz, Yusai, Insigne Il capitano Lorenzo Insigne per fare 2-0 Grazie a tutti